Capitano Baghi, cosa abbiamo intenzione di fare? Sì, finalmente abbiamo trovato un'isola, direi che possiamo scendere a terra, giusto? E me lo chiedi anche, razza di mozza che non sei altro? È logico, sono tre giorni che viaggiamo dentro questa nebbia, non so nemmeno dove siamo finiti. Ora scendiamo su quest'isola e vediamo di trovare un po' di scotte e magari dei tesori. Forza, ciurma, tutti a terra! Ehi, che fate gli impalati branco di trontoloni? Non volevate finalmente arrivare a terra? Capitano, la ciurma è strebata, sono tre giorni che non toccano cibo e acqua, praticamente ha mangiato e bevuto solo lei, deve capirli. Dettagli, che razza di ciurma di idioti che mi trovo! Dai, forza! In piedi! Anche se quest'isola in mezzo alla nebbia è strana. In che senso, capitano? Non mi dica che ci sono dei pericoli anche qui, dovremmo scappare ancora? Non credo, mi ricorda qualcosa. Mi sembra di essere già stato qui. Forza, tu scendi con me. Va bene, capitano. Più guardo quest'isola, e più sono convinto di essere già stato qui. Aspetta! Cosa c'è, capitano? Un altro nemico? No, 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 che nemico, che nemico? Io so che posto è questo. Non ci credo di essere tornato qui per caso. Ti rendi conto di dove siamo? No, capitano, ma la smetta di fare il bagola, prego. Dove siamo? Ciurma! Siamo sbarcati sull'artel! È vero? Evviva! Evviva! Evviva, capitano Maggi! Evviva! Fermi tutti! Non vi azzardate a scendere da quella nave, maledetti lui di vermi, o farete i conti con me! Ma, ma capitano, si sente bene? Certo, ma hai sentito meglio. Forza, sulle ancore, dai! Andiamocene! Ma, 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 ma come, capitano? Abbiamo trovato l'isola del One Piece e non lo prendiamo? Zitto, idiota! Tu non sai cos'è il One Piece, non sai cosa vuol dire! Non puoi renderti conto di cosa significa impossessarsi di quel tesoro! Oddio, io credevo che trovare One Piece significava diventare re dei pirati! Quale può essere il pericolo che può minacciare i re dei pirati? Certo, chi trova il One Piece diventa il sovallo di tutti i mari, ma non è solo questo. È una responsabilità e un potere che tu non puoi nemmeno immaginare. Ma, 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 ma quindi lei, capitano, sai in cosa consiste il grande tesoro? Io? Ma certo! E per chi mi hai preso? Porta, andiamocene! Ma quindi lo lasciamo qui? Certo! Non ho assolutamente intenzione di accollarmi il peso della storia e del mondo sulle mie spalle. E poi, sono convinto che il capitano non avrebbe mai voluto che lo trovasse uno come me. Sono stanco di scappare nel nuovo mondo. Io volevo solo una vita tranquilla, ricca di tesori e di belle donne. Volevo la fame e il potere, ma non così tanto. Giurma, torniamocene nel nord blu. Torniamo a saccheggiare piccole isole pacifiche senza il minimo pericolo. Lì sì che faremo la bella vita, ok? Oh mio Dio! Il capitano brilla di una luce talmente grande che nemmeno il One Piece è sufficiente per lui. Mamma mia, capitano Maghi! Lei mi commuove! Sì, 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 certo, certo, certo. Forza! Torniamo a una vita tranquilla. Ho fatto bene a prendere questa decisione. Non sarei mai stato in grado di possedere quel tesoro. In più, sono convinto che su quell'isola ci sarebbe stato anche il rosso ad aspettare. E non ho sicuramente voglia di vedere la sua brutta faccia. Lascerò la responsabilità del One Piece al prossimo idiota che si presenterà qui. Molto bene! Credo di aver compiuto il mio dovere. Non ne sarei mai stato in grado. Non hai mai avuto una gran stima di me. Spero almeno, nonostante tu non ci sia più, di aver fatto la cosa giusta. Sei d'accordo con me, capitano Roger?